Italia 1 è a caccia di talenti. Avete sempre sognato di entrare nel magico mondo dello spettacolo? O magari di diventare una rock star? O semplicemente volete mostrare il vostro talento? Bene, Italia 1 è proprio quello che stavate accercando. E sì perché tutti i video che saranno realizzati e che rispetteranno il regolamento verranno messi online e saranno resi visibili e votabili da tutti. E sì perché a decidere quale dei talenti sarà il più meritevole sarete proprio voi, pubblico da casa. E allora che cosa aspettate? Correte a realizzare il vostro video e ricordatevi che ciascun video può essere votato dallo stesso utente una sola volta all'interno dello stesso.